Noi abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo scoperto quanto è costata la passerella di due ore della presidente Boldrini che appunto, come ricordavamo, è venuta per la celebrazione del 25esimo anniversario della città delle bambine e dei bambini. Quindi il conto è un conto salato perché è costato 3.000 euro, è costato al gabinetto del sindaco 3.000 euro, ripartiti in questo modo. 2.100 per l'utilizzo del Teatro della Fortuna e 9.100 per le spese relative a 5 dipendenti che hanno lavorato per organizzare questo evento 10 ore a testa. Tra l'altro in questo conto non si parla del costo sicuramente che c'è stato per la scorta di polizie e carabinieri, quindi esula da questo conto. E vorremmo ricordare che recentemente, proprio nell'ultimo anno, il vicepresidente della Camera di Maio è venuto nel nostro territorio più volte. È stato recentissimamente a Marotta, è venuto anche a Fano, è stato a Montelabate, si è sempre spostato con la macchina propria o presa a noleggio e non ha mai avuto scorta. Quindi una scelta di una politica più sobria e che guarda alla sostanza e non alla forma è possibile. Tra l'altro poi parlando proprio della cerimonia della città dei bambini, ci sorprende che si siano spesi questi soldi in questo modo, quando invece sarebbero più utili spese differenti, come per esempio un'idea che ci è venuta in mente, quella che avevamo messa nel nostro programma elettorale. C'è utilizzare questi soldi per dare dei buoni alle famiglie bisognose, per poter permettere ai bambini di iscriversi ai corsi sportivi, soprattutto in una stagione primaverile come questa e ci sono tante associazioni sportive in difficoltà nel nostro territorio che però fanno un lavoro veramente eccelso nei confronti dei bambini per un'educazione, una formazione, soprattutto per abituarli a muoversi per la loro salute in una fase delicata come quella della crescita. Quindi secondo voi si poteva organizzare l'evento in un luogo diverso? Certo, secondo noi si poteva organizzare l'evento in un luogo diverso, come per esempio una volamagna che magari non è bella come il nostro teatro, però sarebbe costata zero per la comunità.